Alla faccia di tutti quelli che pensavano che a Ostia non si potesse fare un Pride! Eccoci qua come siamo belli! Noi siamo belli così come siamo! E va con lo stereotipo! Adoro! Mo' vi aspettate sempre il vostro prossimo! Ma l'ha detto qualcuno di famoso! Il Lazio Pride si fa per andare nei piccoli centri, laddove c'è l'omofobia, laddove c'è la violenza! Ad Ostia abbiamo avuto molti casi di violenza, dei ragazzi sul lungomare sono stati picchiati, dei ragazzi in spiaggia solo perché si baciavano sono stati cacciati! Questo è anche un Pride contro le mafie! In questi giorni molti mi hanno chiamato e hanno detto perché è un Pride contro la mafia? Mica la mafia è contro i gay! La mafia è per lo sfruttamento e sfrutta quei ragazzi e quelle ragazze, giovani e giovanissimi, cacciati di casa, in particolare le persone trans, che non hanno nulla, li costringe sul marciapiede e li fa diventare vittime di tratta! Questa è la mafia! O costringe i ragazzi minori a spacciare droga! E questa è la mafia! E noi qui siamo oggi anche per i diritti dei gay e contro la mafia! E noi qui siamo!